Ciascuno di noi, ciascuno di voi, porti in questa campagna anche coloro che sono troppi che invece pensano che la politica sia una cosa da aiutare, che la politica non uccida nelle vite delle città e delle persone. Riportiamo le persone a esercitare il loro diritto di voto. Questa è la prima dei nostri obiettivi e li portiamo in un ambiente bello, in un ambiente in cui c'è armonia, in un ambiente in cui si sfute e si cercano soluzioni migliori ascoltando chi ha la capacità. C'è un altro fattore che dobbiamo tenere ben presente, è quello della speranza. Non lasciamoci ingannare come si dice, i problemi sono tanti e tanti che non saranno sempre, saranno senza soluzioni. A chi può non trovare soluzioni quando siamo così tanti? Chi può fermare un fiume di persone come siamo noi unbri se cerchiamo le soluzioni? Ai problemi dell'angente, ai problemi della famiglia, ai problemi della famiglia, ai problemi della famiglia che sono pazienti. Se ci ammettiamo, se ci siamo intanto a votare le soluzioni che possiamo trovare. E questo è un ultimo fattore, sul quale davvero mi chiedo di essere tutti qui e fuori da qui senza paura. Noi abbiamo la necessità, abbiamo l'opportunità in questa campagna elettorale di fare tutto questo se ci mettiamo tutto il coraggio di cui siamo capaci. E di avere il coraggio, non ci si perdono mai! Braviti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.